Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione presentata dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del PD dopo aver accolto emendamenti presentati dai consiglieri Andrea Ulmi della Lega, Diego Petrucci di Fratelli d'Italia e Marco Stella di Forza Italia. La proposta di risoluzione approvata chiede alla Giunta regionale l'impegno di proseguire con più intensità la campagna di vaccinazione prestando attenzione in parallelo al completamento degli ultraottantenni e a concludere quanto prima la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili, dei loro caregiver familiari, delle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni, tra i 60 e i 69 anni e tra i 50 e i 59 anni e dei volontari in prima linea nella gestione della pandemia. L'emendamento presentato dal Capogruppo di Forza Italia Marco Stella prevede inoltre di estendere la possibilità di vaccinarsi per i malati oncologici in follow up per 5 anni, inserendoli così nella categoria dei superfragili. La risoluzione affronta il tema della vaccinazione a 360 gradi e della cura dei malati Covid. Partendo da quest'ultimo aspetto evidenzia come per quanto riguarda l'uso delle monoclonali, ricordo che in Toscana ormai è diffuso su tutto il territorio regionale, ci sono 12 hub, 12 laboratori che le somministrano, c'è un problema nel senso che i criteri di AIFA per individuare i soggetti cui somministrare le monoclonali sono molto rigidi, tali per cui ci sono tanti pazienti che potrebbero trovare giovamento dalle monoclonali ai quali non si può inoculare, non si possono inoculare le monoclonali. Allora noi diciamo, soprattutto in vista anche del post estate, fare un tavolo con AIFA per allargare questi criteri, ovviamente si parla sempre di persone estremamente fragili prese nella fase iniziale della malattia. Poi si parla delle cure domiciliari, c'è uno studio del Mario Negri ripreso anche dalla Finch, quindi delle prove, delle evidenze scientifiche riguardo l'uso degli antinfiammatori nella prima fase della sintomatologia Covid, che ancora non è stato ripreso nelle linee guida dei medici di medicina generale e delle linee guida di coloro che si occupano dei pazienti nella prima fase di diagnosi della malattia. Diciamo, ci sono queste evidenze, siccome da alcune parti si continua a dare solo l'indicazione del paracetamolo, riprendiamo queste valutazioni e se le riteniamo come pare fondate scientificamente diamole e distribuiamole su tutto il territorio toscano come indicazione da dare ai pazienti, non paracetamolo ma antinfiammatori. E poi sui vaccini, sui vaccini diciamo tante cose, la chiusura di tutte le categorie dei fragilissimi, la vaccinazione dei caregiver, che queste sono iniziate dalla commissione che c'è stata dieci giorni fa, oggi il governo regionale ha iniziato a vaccinare i caregiver, sta chiudendo gli estremamente vulnerabili, li ha riaperti tra l'altro proprio oggi, diciamo di completare le categorie, perché molte regioni avanzano nelle aperture senza chiudere le categorie di chi è più a rischio e invece noi diciamo chiudiamo intanto quelli più a rischio e poi c'è un dato che è quello dei fragili, dopo i sessantenni ci sono i fragili, categoria 4 del piano vaccinale nazionale, noi diciamo apriamo ora, visto che si comincia a vaccinare anche i cinquantenni, cosa permesso dall'ordinanza di figliuolo, apriamo specificamente questa categoria che è giusto inizi la vaccinazione anche in Toscana. Oggi abbiamo votato favorevolmente una proposta di risoluzione per dare in maniera costruttiva una spinta come l'opposizione ha sempre fatto all'interno dell'Aula del Consiglio, abbiamo cercato di dare un impulso in maniera positiva, mentre invece c'è ancora il PD, il Presidente Gianni e soprattutto parte della maggioranza che fa pensare, dice che la campagna vaccinale in Toscana è andata bene, non è andata affatto bene, c'è stato un errore originario che oggi paghiamo perché la coperta è corta, se si tira da una parte si scoprono delle categorie delle parti di popolazione e così si sta rincorrendo quello che è una campagna vaccinale corretta da effettuare in una regione come la nostra che purtroppo subito dall'inizio non vaccinando correttamente coloro che effettivamente avevano bisogno e soprattutto i fragili, gli ultrafragili, in particolare gli ultraottantenni, oggi ci troviamo comunque in delle posizioni anche a livello Italia sicuramente non positive. Importante che si inizi ad andare nella direzione che noi abbiamo chiesto, di velocizzare, completare quanto prima l'iter di vaccinazione sui fragili, passare anche a nuove metodologie, utilizzare e chiedere ai medici di famiglia di estendere la loro attività di prossimità, aumentare gli hub e nello stesso tempo favorire le imprese perché possano vaccinare in house e soprattutto riconoscere gli oncologici quali soggetti fragili anche se non sono nei sei mesi della terapia oncologica che magari viene loro rivolta. Questa è una conquista di civiltà, un passaggio che ho voluto condividere e credo che sia una novità importante da quale dare attuazione. Bisogna abbandonare il click day, fare in modo che le persone abbiano accesso in fruizione semplice dei vaccini, quindi alcune risposte a tutti quei siti che noi abbiamo posto in queste settimane iniziano ad andare nella direzione giusta, c'è tanto da recuperare, ma sicuramente il nostro lavoro va in questa direzione per migliorare l'attività di vaccinazione in Toscana. Siamo ultimi sugli over 80, siamo ultimi sugli over 70, la fase vaccinale non sta andando avanti e in Toscana siamo fermi al palo. Non può soddisfarci quello che è successo in regione toscana, ecco perché noi abbiamo detto, certo, un'accelerazione, un cambio di passo, ma l'ha detto prima di noi anche il Partito Democratico. Se il Partito Democratico pone un tema sulla Giunta dicendo che serve un'accelerazione ed un cambio di passo sulla fase vaccinale, deve avere anche il coraggio di sfiduciare l'assessore e la Giunta. Noi siamo pronti ad andare alle elezioni, lo siamo pronti subito, non siamo attaccati alle poltrone, le poltrone è l'ultimo dei nostri problemi. Ci sembra invece che la maggioranza che sostiene Gianni e la Giunta di centrosinistra si è attaccata alle poltrone, perché da un lato fa i documenti per criticare la fase vaccinale dicendo quello che noi diciamo da mesi, la fase vaccinale non funziona, il click day non deve essere fatto, abbiamo più di centomila superfragili che sono in attesa della prima dose vaccinale, abbiamo i malati oncologici che anzora non sono vaccinati, abbiamo i caregiver che non sono ancora vaccinati, cioè siamo ancora nella fase del limbo dove si dice va tutto bene ma in realtà non va niente bene. Ecco, se si dice che non va niente bene bisogna avere anche il coraggio di sfiduciare la maggioranza. Noi siamo pronti, qualora il Partito Democratico volesse portare un atto di sfiducia nei confronti di Bezzini a Dicianni non solo a votare quell'atto, ma a tornare alle elezioni il prima possibile. Il Consiglio regionale della Toscana si è riunito in seduta solenne per celebrare la festa dell'Europa, la cui data ufficiale è quella del 9 maggio. Nell'occasione è intervenuto anche il Presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli con un videomessaggio. Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo ha fatto proprio lo slogan coniato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen qualche giorno fa a Firenze «I care, we care, mi sta a cuore, ci sta a cuore» e ha proposto che venga inciso su una targa da porre all'entrata dell'aula consigliare. Soddisfazione è stata espressa per gli oltre cento comuni della Toscana che nello scorso weekend hanno raccolto l'invito a illuminare di blu i loro municipi e i loro principali monumenti per celebrare la ricorrenza. L'Europa è il nostro punto di riferimento da un punto di vista anche concreto nella percezione della gente oggi che si parli di vaccino e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale. O che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini e allora vale la pena vivere come la Toscana ospita l'università europea e devo dire che sotto questo aspetto il prossimo anno saranno 50 anni, da quel 1972 quando esponenti che nel nostro Paese erano toscani avevano ruoli importanti, penso a D'Avintore Fanfani, a Giorgio Lapira, vollero che fosse proprio nelle colline di Fiesole avere un'università che dalla Toscana fosse l'università per la formazione della nuova classe dirigente in Europa. O si parla dei rapporti che possono portare nuovi investimenti, come vi dicevo, non solo dei recovery fan ma anche del settennato dei fondi europei che parte proprio dal 2021 per arrivare al 2027. L'Europa è cruciale nella vita di tutti noi e sempre più deve essere un'Europa che si integra, che parla alla gente, sempre più un'Europa che le decisioni le prende come Europa dei popoli, non come Europa degli Stati. Lo abbiamo voluto con forza e ringrazio il Presidente Gazzetti, tutti i membri della Commissione Europa per dare un segnale, un segnale importante. Oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni, un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti. Il manifesto di Ventotene, Altero Spinelli, le parole di Schumann il 9 maggio 1950, sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente de Ossè danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa, di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Una sfida che stiamo cogliendo, una sfida che non ha colori e connotati politici e una sfida per dare più risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La Commissione Europa è una realtà che era presente all'interno del Consiglio regionale da tempo. In questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente e quindi ha un ruolo e anche un peso politico sicuramente diverso. Tra l'altro questa trasformazione noi la dobbiamo grazie al lavoro proprio della precedente legislatura, a chi ha guidato e a chi ha collaborato ovviamente con il precedente Presidente. In questa nuova versione noi ci siamo dati degli obiettivi e soprattutto stiamo cercando di lavorare all'insegna di un clima che è un clima di cui io vado particolarmente orgoglioso e fiero, ovvero quello di una collaborazione e soprattutto una condivisione. Noi abbiamo portato a termine una proposta, una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana, è l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali, ad esempio l'inserimento prima dell'avvio delle sedute del Consiglio regionale e anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa perché è sotto gli occhi di tutti che le grandi prospettive legate al next generation, al recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo e se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana, potremo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. Durante i lavori di questi primi mesi ci sono state molte interlocuzioni e mi piace mettere in evidenza come nel rapporto ad esempio sia con gli europarlamentari di tutte le espressioni politiche ma anche con i territori, ascoltando ad esempio Anci e Upi, noi abbiamo raccolto spunti che pensiamo proprio per la concretizzazione e l'applicazione delle opportunità legate al next generation, noi ci auspichiamo, possano essere utili. Proseguiremo in questo lavoro, voglio ringraziare tutte le commissarie e tutti i commissari, l'ufficio di presidenza ovviamente, il vicepresidente Galli e la vicepresidente Anna Paris, con il supporto indispensabile del presidente del Consiglio regionale Mazzeo. Ma anche con l'aggiunta del presidente Gianni credo che abbiamo intrapreso un cammino importante che ci porterà, mi immagino, e soprattutto questo è l'impegno, a seguire la partita decisiva, fondamentale, del next generation. Questo Consiglio regionale sembra voler prendere il tema dell'Unione europea più seriamente di quanto si sia fatto finora. Dobbiamo ricordarci che è importante che il rapporto con l'Europa sia sempre biunivoco, cioè l'Europa deve sempre avere presenti quelle che sono le situazioni delle singole regioni e questo rapporto di biunivicità deve essere anche propositivo, le regioni devono proporre. Io devo dire che finora la Commissione ha proposto questa festa, ma in realtà non c'è stata molta attività in più, ci sono state delle audizioni, la proposta che è stata fatta per il PNRR non è stata così forte come noi avremmo voluto, ma soprattutto c'è qualcosa che la regione toscana deve dire con forza, che l'Unione europea avrà senso se tutti gli stati, tutti i cittadini di ciascuno stato avranno pari dignità tra loro. Finché esisteranno le possibilità, come è successo nel caso della Germania, di poter avere o chiedere un numero di vaccini superiore per il proprio Paese, ecco questi sono i segni che fanno capire che l'Europa non è ancora quella che chiedevano Schumann e Spinelli, non siamo ancora quell'unione di Stati con quel senso solidaristico che dovremmo avere. È questo che la regione toscana, ma io dico tutta l'Italia, deve pretendere dall'Unione europea. Se saremo un'Unione solidale avremo ragione d'essere e daremo finalmente uno spirito nuovo a questa Unione che comunque sia permesso in questi 70 e più anni di non avere più guerre all'interno del suo territorio. E questo sicuramente è una grande conquista. Con il Presidente Gazzetti abbiamo iniziato in questi mesi un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quelli che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana. Per cui siamo al lavoro, abbiamo fatto tante audizioni, abbiamo ampliato le nostre conoscenze e speriamo nel breve tempo possibile di poter essere a disposizione dei nostri concittadini per poter dare il nostro contributo. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal Consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella e sottoscritta da tutti i capigruppo per il riconoscimento del contributo previsto dalla Legge regionale per le vittime di incidenti sul lavoro ai familiari di Luana Dorazio, la giovane ragazza madre deceduta in fabbrica a 22 anni a Montemurlo, in provincia di Prato, mentre lavorava. Sono orgoglioso, contento che il Fondo per Luana Dorazio a firma Marco Stella, quindi di Forza Italia, che è stato portato in Consiglia regionale sia stato sottoscritto, quindi fermato da tutte le forze politiche e votato all'unanimità. Questo certamente non basta, non basta dare un piccolo contributo così come previsto dalla legge regionale ai propri familiari per addolcire il dolore, se si può parlare di addolcire il dolore, perché quella tragedia lì in Toscana e in Italia e nel mondo non deve più ripetersi. Ecco perché l'appello della madre è da un lato a chiarire quello che è successo, credo che debba essere accolto con estrema serietà e si debba fare il prima possibile per accertare le responsabilità qualora vi fossero delle responsabilità. E dall'altro mettere in campo tutte quelle azioni per far sì che gli incidenti sul lavoro non avvengano più. Da parte del Consiglio regionale di Forza Italia sono veramente contento che noi abbiamo fatto un piccolo passo per stanziare il Fondo di Solidarietà. Certo, questo non basta, ma è un segno di attenzione del Consiglio regionale. Luana e le altre vittime degli incidenti sul lavoro sono lì a guardarci, a chiedere conto, a chiedere responsabilità e impegno. E il Consiglio regionale non ha lasciato cadere nel vuoto questo invito ma ha voluto subito proporre una risoluzione condivisa da tutte le forze politiche che impegni la Giunta proprio a lavorare al rafforzamento degli strumenti di contrasto per quanto riguarda appunto il tema della sicurezza, quindi di rafforzamento della cultura, soprattutto della sicurezza. Quindi molto da fare sul piano della formazione, su un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti. A questo poi si affianca un altro strumento che è stato introdotto dalla precedente Giunta ed è un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime. In questo caso c'è anche un bimbo di pochi anni al quale il Consiglio e la Giunta vorranno certamente non far mancare il proprio sostegno. Quindi nell'abbracciare la famiglia, nell'abbracciare tutte le famiglie delle vittime ovviamente vogliamo essere loro vicini con atti concreti, non con la retorica che in questi momenti forse abbonda ma con atti concreti che possono essere davvero di conforto, anche se minimo, ma di conforto per il dolore profondo che in questo momento i familiari stanno vivendo e a loro ovviamente va il mio abbraccio. Noi abbiamo firmato quella proposta e crediamo che in realtà, lo abbiamo detto e lo proporremo, questa debba diventare anche strutturale perché molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro e crediamo che in questo caso la Regione debba andare a supporto di chi ha bisogno perché ci dobbiamo ricordare delle persone che non ci sono più, non solo nel momento in cui vengono a mancare ma anche per il futuro di quella famiglia, per il futuro dei propri figli e cercare di dare sollievo a quelle famiglie che sono fortemente colpite. Abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio della seduta, io credo che debba rimanere a nostra memoria tutte le volte che succede un fatto così grave e dobbiamo però anche trasformare in propositivo cercando di portare un contributo a chi ne ha bisogno perché purtroppo è stato colpito da un lutto che non riporterà indietro assolutamente chi non c'è più ma che deve dare una mano a chi deve guardare anche al futuro. Tutti i gruppi all'unanimità hanno condiviso la proposta del Presidente Marco Stella di dar vita ad una raccolta di fondi, è un gesto concreto, significativo poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro perché le cosiddette morti bianche, vedere morire una mamma giovane, una ragazza ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita altri ragazzi per questioni legate al mondo del lavoro è insopportabile, è una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle e che dobbiamo in qualche modo eliminare nel senso che dobbiamo migliorare la normativa e quindi ridurre questi tragici eventi. Sì, una tragedia immane di una ragazza, di una donna, di una mamma prima ancora di una lavoratrice è una tragedia e come tale bisogna non soltanto ricordare non soltanto chiedere maggiore sicurezza ma si deve poter fare qualcosa di più è il motivo per il quale anch'io in prima persona ho firmato l'atto condividendo la proposta del Presidente Stella perché si possa fare qualcosa istituendo questo fondo e cercando di dare un contributo anche economico a tutti coloro che si trovano poi nelle condizioni di difficoltà a causa di un decesso di un proprio familiare e allo stesso tempo per contrastare ovviamente le morti bianche sui luoghi di lavoro. Condividiamo la proposta ma avremmo preferito che fosse allargata il Vescovo durante l'Omelia ha detto una cosa molto forte Luana e tutti i morti sul lavoro sono tutti in piedi davanti a noi che ci stanno chiedendo giustizia e tutela ecco dovremo fare probabilmente un fondo istituire un fondo non soltanto per Luana Dorazio ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio e magari l'hanno fatto con passione e con dedizione per il loro lavoro dovremo pensare a tutti loro e ricordarci che ogni perdita di vita umana sul lavoro è una grandissima sconfitta per la Toscana Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana il bilancio di esercizio 2019 di ARPAT l'Agenzia Toscana per la protezione ambientale che si chiude con un utile pari ad oltre 2.149.000 euro in netto aumento rispetto al 2018 che era pari ad 1.441.000 Abbiamo votato contro a un bilancio che ci è sembrato esageratamente edulcorato rispetto a quelle che sono le vere esigenze di ARPAT vere esigenze che abbiamo rappresentato con degli atti quando abbiamo chiesto per quattro volte di potenziare ARPAT di rinforzare dal punto di vista non soltanto economico quindi delle risorse ma soprattutto del personale che sta diminuendo negli anni e ci è stato sempre risposto no salvo poi sentir dire in commissione che è stato preso atto della mancanza di personale ecco questo trovo che sia un gesto di irresponsabilità quello che è stato fatto nei compronti del Movimento 5 Stelle che aveva sollevato il problema già nella precedente legislatura e un'enorme perdita di tempo perché come stiamo vedendo ci stanno accadendo in Toscana dei fatti che renderebbero necessario ora una gran quantità di persone e risorse per tutelare e cercare di individuare le criticità che purtroppo già ci sono state in questi anni questi anni in cui si è consumata la lenta perdita di risorse umane e professionali di ARPAT abbiamo espresso un voto contrario perché chiaramente ARPAT ha bisogno di uno sviluppo diverso lo abbiamo visto soprattutto in questo periodo dove un'indagine che ha riguardato il comprensorio del cuoio e quindi la necessità di avere personale qualificato un maggior personale tra l'altro ARPAT ha un numero di operatori che ha un'età molto avanzata diciamo quasi al pensionamento quindi c'è veramente necessità di far funzionare in maniera corretta questo ente Oggi il voto di Fratelli d'Italia è condizionato sicuramente dalla maniera in cui la regione toscana si accinge a gestire una nuova fase di ARPAT noi chiedevamo un cambio di passo chiedevamo un cambio anche di struttura di questo importante organo regionale e siamo rimasti basiti da quello che è successo cioè noi siamo andati a nominare ai vertici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana una persona che attualmente è a processo indagato per aver commesso dei danni ambientali quando era dirigente dell'ambiente al Comune di Firenze cioè una persona che sta sostenendo un processo a cui auguriamo di essere assolto e di poter dimostrare la sua estraneità dei fatti ma oggi è un indagato per danni ambientali fatti dal direttore dell'ambiente a Firenze dove viene nominato ai vertici dell'azienda regionale che deve vigilare sui danni ambientali a noi sembra una follia se non è scherzi a parte è un problema serio per la regione toscana è un problema serio per la regione 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 è un problema serio per la regione